Quando si trova di fronte a persone che ti vogliono schiacciare, devi riuscire a reagire, a stare su e molte volte devi scendere a compromessi che non sono molto buoni per difesa. E quindi la domanda è, ma questa scienza dello spirito che ti insegna in qualche modo ad essere più etica e anche a sopportare certe persone che non la pensano come te? Quindi che facciamo? Che facciamo noi? Ti rispondo con le parole di un personaggio che a me piace tanto, che è quello là? Il Vangelo. Il Vangelo. Quello è Gesù a 25 anni. Allora, il Signore, che è anche il nostro Re, Gesù è il responsabile per il pianeta Terra. Gli altri pianeti dove ci sono civiltà nel nostro sistema solare hanno altri responsabili. Lui dice, ci dà dei consigli. Non gettate le cose santi ai cani, non date le vostre perle ai porci. Se entrate in una casa, lasciate la vostra pace. Ma se la vostra pace non viene accettata, riprendetevela, scuotete la polvere dai calzari e andatevela. Se il tuo fratello commette un peccato, parlaci nell'intimo. Se non si corregge, vacci in due. Se non si corregge, sottopolino all'assemblea. Se ancora non si corregge, trattatelo come un pagano. Calci nel sedere. Cioè, fuori dalle scatole. Allora. E' una menzogna che Gesù è venuto a salvare l'umanità. Il Signore è venuto a separare il grano dalla gramigna. Quindi la gramigna non la salva. La gramigna, lui dice, verrà gettata nel fuoco della genna. Io non sono venuto a unire. Sono venuto a portare una spada. Sono venuto a dividere la madre dalla figlia, il padre dal figlio, eccetera, eccetera. La spada è la verità. Quindi chiunque sarà della verità, starà con lui. Chiunque non sarà della verità, starà con l'altro. Quindi il consiglio è, appena parli con qualcuno, accarezzagli la testa. Grazie. Grazie. No, perché lei ha detto anche... Che ci sono degli extraterrestri in incognito qua che devono ogni tanto, devono darsi il cambio perché è difficilissimo vivere nel mondo come questo e rimanere eticamente... Vedi, c'è un fatto che io ho studiato che non è mai stato scritto e nemmeno lo scriverò, però lo dico. Allora, molti esseri, siccome nei loro mondi si sta tanto bene, ma proprio bene, 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 quindi a un certo punto hai bisogno di adrenalina oppure hai desiderio di accelerare la tua evoluzione. quindi vai all'ufficio emigrazione e dici io voglio incarnarmi nel pianeta Terra perché in un mondo così drammaticamente violento se io riesco a lavorare con il bene guadagno punti, come Mario Bros nel giochino e quindi la mia evoluzione viene accelerata cioè mi evolvo più rapidamente che stare nella mia beata società extraterrestre. Ora, c'è un problema che molti esseri che vengono con questa intenzione poi vengono fregati cioè cadono perché vengono vinti dal male perché dal mio punto di vista di ricercatore loro vengono da altre evoluzioni dove non c'è il lucifero che c'è qui siccome ogni lucifero c'ha una sua creatività nel male loro conoscono quel tipo di creatività siccome sono persone pure e si incarnano sono attratti dalla novità e quindi magari si avvicinano al male magari lo praticano poi molti se ne ritraggono e qualcuno ci rimane agganciato a quel punto entrano nella ruota karmica del mondo dove si sono incarnati e fino a che non vanno a pareggio di bilancio non possono ritornare al loro mondo. Quindi c'è questo aspetto che è drammatico perché qualcuno di questi personaggi io l'ho potuto incontrare sono persone molto 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 infelici. Quindi tornando alla tua domanda ci vuole il discernimento quindi il nostro cuore non lo apriamo a cani e porci prima tastiamo con delicatezza se vediamo che quello abbaia o gruffola come un maiale lascialo al suo destino e già ti stai proteggendo.